White, il bianco. Il bianco è uno dei colori che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Nel mondo dei colori il bianco è sicuramente quello che racchiude, mette insieme tutti i colori. Ma il bianco è anche un momento in cui noi esprimiamo e riusciamo a mettere in evidenza il resto dei colori. Abbiamo voluto coinvolgere i più grandi architetti, i famosi architetti, in un progetto che si chiama White in the City, che andrà in onda, se così possiamo dire, durante la Design Week. Esprimeranno con delle installazioni la loro interpretazione del bianco. Ciò che significa il bianco nell'architettura, il bianco nel design, il bianco come espressione di colore, e il bianco che mette in evidenza gli arredi, gli altri colori. Il bianco lo vogliamo raccontare al pubblico e vogliamo anche trasmettere un altro messaggio, il benessere. Noi abbiamo fatto una ricerca che non è solo nelle varie diversità del bianco, dei vari cromatismi che ha il bianco, siamo a 187 di queste tonalità del bianco, ma anche una forte ricerca per togliere la formaldeide da quello che è il prodotto che viene utilizzato nelle superfici. Quindi Oikos, il bianco del benessere.